Adozione, affido, accoglienza. Tre modi per abbracciare l'altro regolati da leggi del tutto diverse, formulate sulle rispettive specificità. È importante quando si parla dei bambini che arrivano dall'Ucraina non fare confusione, ricordando che le leggi internazionali non permettono adozioni dai paesi in guerra. L'affido, come anche l'accoglienza, sono invece risposte temporanee ad emergenze diverse. Lo ha ricordato oggi anche il Presidente del Tribunale dei Minori, Cecilia Angrisano, sottolineando che, senza la decisione di questo istituto, qualunque accoglienza di bambini, anche arrivati da orfanotrofi o in apparente stato di abbandono, è da considerarsi illegale. Naturalmente, anche per l'accoglienza dei minori in arrivo dall'Ucraina, la maglia dei controlli deve essere ben salda e fitta, a tutela degli stessi bambini e delle loro famiglie. Il primo passo che vorrei compiere è quello della distinzione, importantissima, fra adozione affido e accoglienza, anche temporanea tra l'altro. Allora, è una differenza sostanziale quello che stiamo sempre evidenziando. L'accoglienza è proprio una modalità di mettere a disposizione un'abitazione, quindi anche un'ospitalità nella propria abitazione con un nucleo familiare a rifugiati, così di identificare con un nucleo o anche minori. Quindi è una situazione temporanea. Non si può parlare assolutamente di affido, quello che stiamo cercando di dire, e né tantomeno di adozione, proprio anche perché vi è una politica proprio internazionale che è ostativa a questo. Qui parliamo di accoglienza, di ospitalità. Infatti stiamo in difficoltà per specificare proprio queste differenze molto importanti. Che risposta avete avuto al vostro avviso? È stata una risposta importante, massiccia, da parte del popolo abruzzese, variegato chi ha dato la disponibilità di alloggi, quindi esclusivamente di alloggi, famiglie che vogliono ospitare, anche singoli che vogliono ospitare nuclei familiari composti di rifugiati e anche di mediatori culturali e linguistici che si sono messi a disposizione proprio per far sì che vi sia questo ponte. I mail arrivano in continuazione a tutte le ore, ovviamente, sono centinaia di mail e vi sono state anche famiglie già adulte, genitori di una certa età che i figli sono dati via e loro vogliono ospitare e quindi convivere con famiglie ucraine. Questa è una risposta molto importante.